Sono arrivate nella tarda mattinata di oggi le dimissioni del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, una scelta già nell'area dopo l'ennesima bocciatura di ieri in Consiglio Comunale, con la presenza di soli 15 consiglieri nella seconda convocazione, dopo la mancanza del numero legale della scorsa settimana, nonostante il fervio tentativo di sindaco, vari assessori e consiglieri trovare un livello di mediazione con i fuoriusciti dalla maggioranza. Ora Brucchi avrà a disposizione 20 giorni per ripensarci, altrimenti arriverà un commissario in attesa di tornare al voto. L'amministrazione Brucchi non è mai nata, hanno fatto 4 rimpasti in due anni, non sono mai riusciti a governare in maniera serena e quindi ogni volta per approvare i provvedimenti si è dovuto arrivare a fare rimpasti continui accorti tra di loro, una maggioranza che non è stata mai coesa e quella risente tantissimo la città, quindi tanti provvedimenti non sono stati presi, rimandati, il put, il piano traffico non è mai stato portato a termine, i vari regolamenti, insomma la città non è stata mai governata, quindi è giusto che a questo punto questa amministrazione vada a casa e si riparta da zero.